Ciao, io mi chiamo Marco, lavoro presso l'ospedale veterinario Nubi della BluVet come anestesista e terapia intensiva, intensivista. Lavoro da pochi mesi in realtà, però faccio questo lavoro da diversi anni, da 5-6 anni. Ho iniziato a lavorare presso l'ospedale in primis come anestesista e poi come intensivista e il motivo per cui mi ha spinto a fare questo tipo di lavoro è sempre stato cercare di fare la differenza in alcune situazioni, in alcune situazioni critiche, dare la possibilità ad alcuni tipi di pazienti di riuscire a superare un momento difficile in seguito a traumi piuttosto che a condizioni preesistenti. Presso l'ospedale Nubi della BluVet ho iniziato a lavorare insieme a questo team di professionisti che mi ha permesso di condividere questa mia passione, soprattutto trovare persone che volessero condividere con me questo tipo di progetto. Sebbene lavori da poco, spero che questa collaborazione continui per diverso tempo.